Buongiorno, benvenuti dalla Segna Stappa di oggi, sabato 28 aprile, sempre da Napoli. Guardate che bellissimo il vulcano contemporaneo qua dietro, il Vesuvio dove sono andato ieri. Però, insomma, il punto fondamentale dei giornali oggi è ancora la politica. Non si riesce a capire per quale motivo ci sia ancora un incaricato fico che stia cercando una cosa che soltanto Travaglio e il fatto pensa che sia ancora fattibile, cioè un governo tra PD e Movimento 5 Stelle. Per la verità vi è uno spiraglio e lo spiraglio è la minoranza del PD che dovrebbe appoggiare questo governo. Una minoranza che però sembra una super minoranza, ci sarà Di Ma e Renzi, oggi lo citano tutti i giornali, che andrà in televisione e ci metto mano sul fuoco, quasi, insomma spero di non bruciarmela, che Renzi dirà che con questo Movimento 5 Stelle e con Di Maio non si possono fare accordi, non si può fare un governo, certo si può discutere come si discute con tutti, ma insomma pensare che Renzi possa fare un accordo con Di Maio è un'idea che ha soltanto forse nella sua testa Travaglio. Si va al voto, titolo del Corriere della Sera, il Foglio invece racconta a suo modo il tappo di Di Maio. Dice mentre Salvini il tappo non lo ha fatto, un po' l'ha fatto col PD, con i suoi veti, ma non si è messo a lato, ha detto non farò soltanto io il premier. Di Maio ha detto no al Cavaliere, il tappo al Cavaliere, no a una premiership diversa da mia, il tappo alla premiership, insomma l'idea del Foglio è che Di Maio le sue carte non se le sia giocate così bene come invece alcuni osservatori sembra che gli attribuiscono. Sulla questione poi di Di Maio c'è questa fantastica dichiarazione di ieri sul fatto che i giornalisti di Mediaset e non solo bastonerebbero Salvini perché ogni volta, avrebbero insomma in animo di bastonare Salvini ogni volta che questo si allontana dal Cavaliere, cosa che è completamente risibile. Ieri i giornali raccontano di un Salvini che abbraccia il Cavaliere, ma la realtà è che non hanno voluto fare l'ultimo comizio insieme perché mi sembra che Salvini si senta in imbarazzo alle due ore di speech del Cavaliere, insomma hanno due stili diversi, è comprensibile che non chiudono insieme la campagna elettorale, ma gli affetti ci sono e gli abbracci oggi vengono certificati dai giornali. Ma ritorniamo al conflitto di interesse che il PD vorrebbe, che scusatemi, che Travaglio vorrebbe risolvere. La cosa che mi ha impressionato oggi nel fondo di Travaglio è che il Travaglio in maniera ridicolizza tutti quanti i giornalisti che non la pensano esattamente come lui, ma soprattutto quelli che lavorano a Mediaset, al giornale o a Mondadori, non sarebbero giornalisti liberi, nel senso che dice, quando ieri Sallusti diceva che ci sono tanti giornalisti liberi anche se non la pensano come Travaglio, lui ci sfotte, dice ma figuratevi un po' voi, siete tutti servi, come dicono esattamente tutti gli epigoni di Travaglio su questi cazzo di social media, che di per sé non sono nulla di drammatico, ma gli haters che raccontano e che dicono le frasi fatte utilizzano esattamente quelle di Travaglio. Il solo fatto di lavorare per il giornale o per Mediaset non ti rende giornalista libero. Io l'ho subita sulla mia pelle questo pregiudizio e lì la fonte di questo pregiudizio è quella criminale idea di Travaglio per cui tutti quelli che non la pensano come lui sono dei servi. Questa è l'idea straordinaria del fascista o del comunista in questo Travaglio per cui i dissenzienti sono pagati da altri e sono al servizio totale di altri. Il titolo comunque a proposito di sobrietà per i renziani è sempre meglio il delinquente, alla fine anche Travaglio è stato condannato e quindi io starei molto attento a definire delinquenti soltanto gli altri perché poi se diventano delinquenti sono quelli che sono condannati per un certo reato e non per altri, è un reato più grave dell'altro. Bosetti oggi dice sulla Repubblica di Maio e i democratici è fuori dalla logica che mi sembra un pezzo molto più interessante e il mattino unico giornale in Italia titolo in prima pagina governo ipotesi lattanzi, cioè l'idea che è orrore degli orrori, penso io a questo punto che il capo dell'esecutivo italiano, sapete un po' chi sarà il presidente della Corte Costituzionale, siamo riusciti a fare così tanto i fenomeni che diventano presidenti in questo Paese i magistrati. Un piccolo dato di contorno riguarda Bella Ciao che oggi Paolo Di Paolo, uno scrittore, sostiene che è un inno universale, permettetemi di dire che Di Paolo racconta quante persone cantano Bella Ciao, in giro per il mondo si canta Bella Ciao, in Spagna, in Francia, in Germania, persone più disparate, in contesti più disparati cantano Bella Ciao, abbiate pazienza, ma Bella Ciao non è un inno universale. La resistenza dell'Ampi non è una resistenza universale, ci sono stati degli orrori tali nella guerra civile dopo la resistenza e durante la resistenza per la quale purtroppo quello non è un inno universale. Chiaro? Non è un inno universale, c'è una parte dell'Italia che non la considera un inno universale, può essere un inno italiano il nostro fratelli d'Italia, ma non certo Bella Ciao, esiste ancora una parte di italiani che immagino ritenga che non ci sia nullo di antidemocratico nel non riconoscersi nell'universalità, cioè nel fatto che riguardi tutti, che sia non discriminante, che sia liberale l'idea di avere Bella Ciao come proprio. Ecco la serie di TV, la casa di carta, brava Luisa, ecco un altro dei casi in cui viene usato Bella Ciao. Ultima, altre due questioni che vi segnalo, beh stupenda nella sua drammaticità il racconto della storia di ieri dei due marocchini che hanno preso, ucciso una persona, ferita un'altra gravemente e altre due lievemente, perché cosa ci racconta questa storia dei due marocchini che ieri fanno una sorta di rancia meccanica a Milano, che è una delle città forse più sicure d'Italia rispetto al resto dell'Italia, è un po' più sicura. Cosa succede? Cosa succede? Succede la seguente cosa, che uno di loro era stato scarcerato soltanto la settimana scorsa, uno di questi due marocchini, sapete perché cosa? Per furto aggravato con un complice, scarcerato, hai fatto un furto, è aggravato e vieni scarcerato, questa è l'Italia della sicurezza e poi si dice, i miei amici del foglio lo fanno spesso, avete una percezione diversa dalla realtà perché sono diminuiti i furti eccetera, saranno pure diminuiti i furti, ma diminuiscono anche le denunce e diminuisce la certezza del diritto su chi fa un furto e poi sta in galera e quello stesso dopo una settimana esce, trova un complice che era arrivato proprio poche settimane fa con un barcone e fanno quello che adesso vi racconto, cosa fanno questi signori? Prima di tutto prendono e aggrediscono un architetto, gli tolgono il cellulare, poi prendono un non contenti dopo un paio d'ore, un canciavite e uno sbandato, psicolabile, un poveraccio che stava vicino alla stazione, lo feriscono prima alla milza e poi al fegato per rubare a questo poveraccio, pochi spiccioli che aveva nel suo portafoglio, era uno psicolabile che era appena uscito da un centro di assistenza e lo feriscono insanguinato a terra, non contenti riprendono un autobus e trovano altre due ragazze, due ragazze non italiane che avevano fatto la movida a Corso Garibaldi, forse un po' breghine o forse comunque sprovvedute, non sono esattamente le due ragazze italiane e milanesi che sanno come muoversi, anche loro le rapiscono e le tolgono cellulari, non contenti, non contenti, cioè incontrano per la quarta, quinta volta in questa loro arancia meccanica serale, sai che cosa incontrano? Un pover ragazzo del Bangladesh che aveva un solo problema, che faceva il barista, il barista con un contratto di soggiorno, regolare, un immagrato, quello sì una vera risorsa, prendono il cacciavite e gli fanno tre ferite per cui lo mettono a terra e muore questo, per rubarli sempre il cellulare, lasciano il cellulare accesi nei loro zaini, vengono presi dalla polizia e spero che questa volta non li facciano uscire. Allora, qual è la morale di questa cosa? Primo, questa città che ha raccontato che l'anno scorso bisogna con Sala, Maiorino e tutti questi minchioni qua, non minchioni, scusatemi il termine, non volevo dire questo, con questi buonisti qua ci hanno raccontato che Milano deve diventare la città dell'accoglienza, Milano è già la città dell'accoglienza, le manifestazioni si devono fare per il rispetto delle condanne, per il rispetto della certezza e della sicurezza del diritto e non per l'accoglienza, punto primo. Punto secondo, ci hanno raccontato che dobbiamo accogliere di più, no, dobbiamo accogliere di meno perché non si possono accogliere persone che non si possono tenere in carriera se delinquono o si devono tenere fuori se non hanno un altro lavoro. Terza cosa, che questi mi fanno venire il sangue al cervello per un motivo molto semplice, difendono questi questi signori, l'accoglienza, le ONG, i quadri, le manifestazioni di solidarietà nazionale, chi ha colpito questi due marocchini? Chi hanno colpito? Hanno colpito i margini della nostra società, lo psicolabile, il poveraccio che si stava integrando oggi facendo il barista e facendosi un mazzo così, due ragazze che avevano non italiane, i margini non inteso in senso, voglio dire, con un giudizio morale, ma i margini cioè non i signori che vivono a Corso Venezia e che hanno la loro macchinetta, hanno la loro sicurezza, che parcheggiano nelle strisce blu, che alle tre di notte non si trovano in zona centrale, chi hanno ucciso, chi hanno ferito? Hanno ferito le persone più deboli e noi invece stiamo lì a manifestare chiedendo l'accoglienza, non rendendoci conto che a pagarne le conseguenze saranno sempre e comunque i più deboli. Poi vi voglio chiedere un'altra cosa, ma in Marocco c'è una guerra? I marocchini che vengono qua ai Marconi perché li accettiamo? I marocchini che vengono condannati perché li teniamo a casa nostra? Stiamo parlando di un paese in cui c'è una guerra, in cui non ci sono accordi, non si possono fare accordi, ma di che stiamo parlando? Vabbè, comunque andiamo avanti con le altre due cose, importanti, Trump accordo tra le due Coree, molto divertenti oggi pezzi guzzanti sul giornale e Belpietro che dicono ma scusate ma non era Trump il disastro che con la sua valigetta avrebbe dovuto fare il dottor Stranamore e creare la guerra mondiale? Qua finalmente finisce la seconda guerra mondiale sul 38esimo parallelo, grazie anche a quella portaerei nucleare che aveva fatto arrivare Trump la vicino minacciandolo attraverso la politica estra di Trump, Jan Brenner oggi in un'intervista al Correa della Sera a Repubblica dice insomma qualche merito Trump su questa operazione di distensione tra le due Coree che ha un peso geopolitico fondamentale perché noi ci occupiamo del Medio Oriente ma non capiamo che in Asia hanno il loro Medio Oriente che si chiama Nord Corea, qualche problemino in meno lo avremo se andrà in porto questo processo di pace. Belpietro dice addirittura nobile alla pace a Trump ma viene poco da ridere visto che il nobile alla pace se l'è preso Obama e financo l'Unione Europea che non si è mai distinta per Trump. Ultima notizia della giornata, Ubi ci godono quelli del fatto, i banchieri alla sbarra perché bisogna sempre assetare di sangue qualcuno quindi in questo io capisco che il Movimento 5 Stelle lega con quest'odio nei confronti dei banchieri assetati di sangue però vi ricordo che Bazzoli, Massia e altri 29 dirigenti della Ubi di una banca bergamasca e non solo Bresciana che non mi sembra che i conti stanno andando male, anzi sta comprando le banche fallite, i conti sono andati bene, che ha erogato credito quando gli altri, c'è una banca solida sarebbero in inchiesta per influenza illecita sulle decisioni dell'Assemblea. Allora se vogliamo dare carne al mostro che si vuole alimentare i banchieri tutti i ladri, facciamolo cari amici del fatto, poi però non ci lamentiamo del populismo, siete quella roba là. Sotto inchiesta anche Profumo e altri dirigenti del Monte dei Paschi di Siena per la gestione dei derivati, ma anch'io che non amo Profumo e loro mi chiedo, ma scusatemi, questi che sono arrivati quando era già successo tutto il casino, sotto inchiesta sono questi e non 30 anni di gestione comunista del Monte dei Paschi, no, sotto inchiesta, non Mussari, tutti quelli precedenti, no, Profumo e gli altri che sono arrivati quando il casino era già catastrofico. Questa è l'Italia, se vi piace. Su Ubi è solida, io sono un gioppino, ma che dice? Allora Ubi non è solida, bene Ubi non è solida, sono un giornalista libero, vabbè insomma Ubi non è solida, vi consiglio di mettere i vostri soldi nella Popolare di Vicenza, nella Veneto Banca e nelle banche e diciamo locali che sono state commissariate non solo da Ubi. Un grande abbraccio a tutti, buon fine settimana e vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it. Ciao!